Ciao ragazzi benvenuti in questo video di Pokémon Go Oggi faremo evolvere finalmente tutti i nostri Pokémon Per l'occasione ci siamo messi anche i cappelli invernali Che non possono mancare giustamente Non è che inizia il pretco e noi ci solleviamo il cappello Potrebbe volare durante il video Abbiamo anche quelli invernali Se parecchio vento secondo me mi volerà mentre giochiamo Però vabbè dai Speriamo di no Ci dobbiamo arrangiare Allora giriamo alla sinistra No dove stiamo fanno? Aspettami, aspettami Arrivo, arrivo, arrivo Allora Sì, dimmi Io non riesco a vedere bene il Pokémon Quindi mi devi tenere aggiornata e dirmi cosa andremo a vedere Fai alla sinistra? Dov'è? Qua Ok Ok, allora Prima di tutto attivo il porto un uovo Perché ovviamente l'obiettivo è fare tanta exp E allo stesso tempo evolvere gente Quindi quella è la cosa principale Evolvere gente? Pokémon Ok Sono uguali Dai questa cosa, certo Sei misteri viventi sono Bravissima, bravissima Mi hai capito subito Allora, da cosa vuoi iniziare? Qualcosa di bellissimo O qualcosa di entusiasmante solo per la potenza? Potenza Potenza? Sì Cosa cattiva oggi? Certo, sì Ti sei svegliata con una stato d'animo Frizzantina Ok, e allora ti propongo un Machok che parte da 1076 Uh, bello Ok Questo spero che si evolva in qualcosa di veramente veramente forte Dovrebbe, dovrebbe Allora, voglio evolvere Stiamo andando in una zona più trafficata della città Questa volta non è mattina È la prima volta che ci siamo un Pokémon Go non di mattina E pagheremo le conseguenze della gente Finissimo di persone Oltretutto non abbiamo trovato neanche un posto dove sederci Anche perché l'evoluzione l'avremmo potuta fare da seduti Giustamente Esatto E invece tutto pieno Tutto pieno dappertutto E quindi cammineremo per 30 minuti Guarda, guarda, guarda 1600 Non male Non male Carino Lo facciamo anche valutare perché sono curioso in questi caldi Anche se tanto non ce ne frega molto perché abbiamo Pokémon più potenti Allora, non avrà grande successo nelle lotte Wow Ok Grazie Poi io ti direi Vai, adesso scegli ne uno tu Vai, ti lascio il permesso Growlithe Parte da 820 Va bene, va bene Questo diventerà fortissimo Ok Vediamo Growlithe da 820 diventa un 1780 Ok, vediamo se c'ho azzecchi Preciso proprio Sull'uno, eh, te lo dico Non sarà così Dai Ebbè Orce, dai Sicuramente le hanno rallentate le animazioni Anche se quando 1.9 Ah, più di quanto ti aspettavi, bello Sì, sì, sì Guarda che cosa bellissima però che ti faccio Ah, questo lo voglio vedere No, non dovevi farmi vedere Ah, sì, per il Pokédex, giusto? Sì Sì, sì Questo davvero non ce l'abbiamo Avevamo fatto un nido, Fina Ti ricordi? Ah, sì Questo è il Mido King Non abbiamo mai fatto l'altro In effetti, sì Esatto Sì, sì, hai ragione È una madre che ti sei ricordata Infatti mi ricordavo una terza evoluzione Ma non ricordavo quale dei due In effetti Che figo che è Fammi vedere È bellissimo È bellissimo È bellissimo È infatti il nuovo Pokémon per il Pokédex Abbiamo comprato questa striscia, hai visto? Sì, sì Mica male 1326 Ma fanno un po' schifo Però almeno per il Pokédex È stato utile Quindi perfetto Allora, facciamo qualche altra cosa per il Pokédex Tipo Goldin 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 Sì Non neanche me ricordo più come è diventato Manco io Sinceramente sì Guarda una zona senza persone Oh, bella Che cosa bella Non puoi dire l'acto Rimani qua ferma Adesso conteremo Quando riguardiamo il video Tutte le persone che ci hanno guardato male Ok Perché ogni volta Secondo me oggi Che bellino che è Ma tu non ricordavi così No, non lo ricordavo Ma proprio minimamente Sarà che un Pokémon Che è sempre reputato inutile L'ho sempre lasciato perdere Sì, nel gioco normale Lo prendiamo a volo Esatto Sticking 1139 per di più Guarda che è salito tantissimo Partiva da Che bello 500 È bello però Scherzi È tantissimo Un Pokémon da acqua Sopra il 1100 È altrettutto un nuovo Pokémon Per il Pokédex Esatto Quindi buonissimo Esatto Davvero Sì È arrivato il momento Me lo dici così Sì È arrivato il suo momento Sei pronta? Sì Per di più da 482 a parte Guarda io non so Quanto ci abbiamo messo A trovarne uno così potente Non ne troviamo mai Proprio Mai, mai, mai Oh, che bello Charmeleon Che bello Siamo ancora lontani Dieci vite È la prima evoluzione Di un Pokémon Starter Guardalo Non ne abbiamo mai fatto una Oh che carino Io lo adoro Lo adoro in tutte le sue forme Charmeleon È bellissimo Sì, devi dire però Che Charmeleon è la più brutta Non è vero Siamo sinceri A me piace un sacco Anche Charmeleon Ti dico la verità Mi piace un sacco Non dico che sia brutto Però non è neanche bellissimo 817 Non credo sia male Non credo sia male Però quante ne abbiamo Di Geodood Che ogni volta ci chiediamo Ma perché non vi fermate appena Di Geodood 240 caramelle Esatto Lo troviamo come se fosse un Rattata Quindi Per quello Siamo stanchi Anche di catturarlo In continuazione Però quando diventa Golem Siamo tutti d'accordo Che è una figata Almeno lo facciamo vedere Questo è l'episodio Delle mega evoluzioni Perché abbiamo Nidoking Golem Machok E forse basta No vabbè anche Il re epilash È bello grande Arcanine Grande Siamo tutti giganti L'episodio delle evoluzioni giganti Chiamiamolo così Più che mega evoluzioni Chiamiamolo le evoluzioni giganti Mega evoluzioni Anche se poi nel gioco È diventata un'altra cosa Esatto Quello che ti volevo dire Poi nel gioco È un'altra cosa La mega evoluzione Mi piace più come parola 1256 Partito da 700 Fa un po' schifo Dai Golem Non potevi fare di meglio Un Raiorn Giusto per mettere Un'altra cosa enorme Sono tutti Almeno siamo a tema Tutti gigantissimi Lo stavo per Non salire per sbaglio Mi sono confuso Sarebbe stato terribile Non so cosa stavo pensando E ho cliccato Tra sedici Alle caramelle Però avendo di me Sì è vero Devo comprare Le caramelle Allora come siamo arrivati Praticamente arrivando In questa zona Abbiamo visto Un negozio di caramelle Di quelle buonissime Se le avete presenti Quelle sfuse Fantastiche Magari esiste anche Delle altre parti I pacini Non lo so Si si chiama Pacini Penso che esiste In tutta Italia Sinceramente Non credo che sia Un negozio Un negozio Di qua Non lo so Credo anche io Credo anche io E quindi come l'abbiamo visto Abbiamo detto Come finiamo il video Andiamo a comprare le caramelle Metteremo la foto su Instagram Ok Anche di quello Ormai l'Instagram Con tu che ti fai il bagno Con tu che ti fai il bagno di caramelle L'Instagram sta diventando L'Instagram dei dolci Non vorrei dire Del cibo in generale Del cibo Perché pubblichiamo solo quello Siamo dei mangioni Comunque Andiamo avanti Allora Abbiamo da fare Un altro growlit Che però ci lasciamo per dopo Perché tanto ormai Ne abbiamo già visto uno Questo dish è davvero interessante Perché parte da 640 Io credo che sia Che non è male Difficile trovarlo più forte di così Quindi mi aspetto un gloom Davvero potente Lo sai Che poi si può evolvere ulteriormente Però vabbè 100 caramelle Io non credo che le troveremo facilmente Che bellina Con questa bavetta Sembra io quando dormo L'avevamo anche già detto È vero Però è vero Mi ha svegliato talmente tanto Ecco bisogna ripeterlo sempre 944 32 di 100 comunque dai Magari per la terza evoluzione Probabilmente diventa qualcosa di forte Non è male Io avevo provato a metterlo sulla fiducia Perché ne mancavano solo 5 Ma non le abbiamo trovate Però possiamo fare bell fruit Che non è per il PokerX Perché ticoricla Avevamo trovato una volta Lo so Di questo mi ricordo Di questo mi ricordo Però diventa forte Quanto ci stai dando? 943 Non è male Non è male Anche perché l'erba Speravo sul 1000 1000 invece Però va bene Va bene anche così Fidati di me Ok Gasly Vai Da 429 Perché ce l'ha capitato dall'uovo Abbastanza potente Vai 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 Non vedo l'ora lui Non vedo l'ora Gasly diventava Hunter Credo di sì Giusto? Credo di sì Non vorrei dire una scena In sacco lo sale Proprio che rimane Nel caso tagliamo Ok Taglio Taglio Hunter Ok ok Siamo esperti No Che carina Era riferita a te Eh lo so Mi stava salutando Mi stava salutando Guarda qua quanto siamo messi male Comunque Allora abbiamo Widol Che potrà far ridere a tutti Ma in questa città Non c'è un punto Solo dove si trova Noi lo troviamo solo dalle uova E' la prima volta che lo vogliamo Quindi per il Pokédex Almeno Non è interessante Fa ridere da dire Ma così E' tristissima questa cosa Vabbè che ti devo dire Wow un cabuto Che bello Sono emozionata Ma non la vedi l'emozione Nella faccia Bellissima E guardate Non stavamo scherzando Ho registrato nel Pokédex In questa zona siamo messi malissimo Poi il 12 di 50 Lei non è neanche impossibile Sono di caramelle Prima o poi ce la facciamo No infatti Dopodiché Nel Per il Pokédex Mi sa che ne abbiamo Soltanto un altro Che Krabby Che almeno questo Secondo me è bellino Anche lui mai è voluto Anche lui mai 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 è voluto Ne abbiamo trovato tanti Nell'ultimo periodo Perché siamo andati nel zone Dove si trovavano Pokémon di mare Quindi ce lo siamo fatti Un po' più in fretta E con questo Secondo me lo sai Che siamo tipo a 90 98 Pokémon Forse nel Pokédex Vediamo poi Vediamo Lui è quasi uguale comunque L'hanno fatto benissimo Qua dentro Perché di solito È brutto brutto Dove da noi Invece qua l'hanno fatto davvero bene Eh sì l'hanno fatto davvero bene E guarda Per il Pokédex Anche lui ne abbiamo fatto tantissimi Oggi Oggi caccia grossa Di evoluzioni No oggi Evoluzione grossa E' terribile Non ci sta bene Davvero Non l'avremmo detto Non mi viene in mente nulla Proponete un hashtag Ok Sto controllando Se c'è qualcos'altro Di interessante Attenta Mi stai facendo incastrarti Un palo Vai Vedi che tanto Dovamo andare qua Eh no Ma perché io non volevo andare qua Volevo andare lì No l'ho Vedi che tanto Grazie a tutti. 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 Non qualcosa di instano ormai, diventa davvero tantissimo. Però vediamo il Pokédex, scusami. Siamo a più della metà che non è malissimo. Ah, proprio giusti giusti, 100. Tondi, tondi, tondi. Guarda questa zona come abbiamo fatto bene. Bello. Anche questa non è per niente male. Guarda, guarda, guarda. Inizia ad essere bello pienotto. Qua abbiamo molto buco e poi ovviamente nella zona finale dove c'è un sacco di roba rara. Uè. E quindi, scusi, vai da. Aspetti. Olè. Grazie. Stava cadendo della sciarpa, come era molto importante. Di sicuro abbiamo un altro IV da fare che comunque non sarà troppo difficile da evolvere prossimamente. Poi il resto, boh, piano piano. Piano piano. Chissà se lo finiremo mai, guarda, perché inizia ad avere... Io inizio ad avere di dubbi e penso che non lo finiremo mai, ma... Di fatto ce ne mancano 47, cioè un terzo ancora. Esatto, io continuo a sperare che prima o poi riusciremo a trovare un sacco di Pokémon fighissimi in giro e quindi a completarlo. All'improvviso, dici? No, vabbè, magari avere un po' più fortuna quando andiamo in giro. Ho capito. Spero che vada un po' meglio. Andiamo a comprare le caramelle. Comunque, 100 non è male, lo voglio dire questo, 100 non è male. È un buon riguardo, anche perché è stato sudato in due mesi e mezzo, quindi... Sì, esatto, quindi diciamo che non è stato per niente semplice, insomma. Ok, comunque, ragazzi, ci fermiamo così per questo video. Prossimo video, questo avevamo un promesso delle evoluzioni, il prossimo sarà, appunto, di sicuro al poetto, perché cerchiamo di portare avanti ancora un po' il Pokédex e di vedere se troviamo qualche altro bel Pokémon raro. Dopodiché vedremo un pochettino dove andare. Magari faremo un video con 3-4 Pokéstop attivi per divertirci un po' a catturare per mezz'ora tantissimi Pokémon e vedere cosa capita. Ci fermiamo così, ragazzi, e ci vediamo domani. Ciao, ciao!